Altra iniziativa all'Istituto Zootecnico per la Sicilia, qua in via Roccazzo 85. Oggi abbiamo promosso praticamente la ricotta fatta dal vivo, facendo questa degustazione grazie al caseificio vitale che viene praticamente da Terrasili. Poi l'intenzione nostra qua all'Istituto è di partire con un'altra iniziativa per quanto riguarda la differenziata, cercare di adottare una gallina, questo è un progetto che partirà a settembre-ottobre, in modo che i cittadini di Palermo possano portare all'umido presso l'Istituto Zootecnico, adottare una gallina, quindi risparmio anche della differenziata e dare un uovo ad ogni famiglia che adotta una gallina. Iniziativa assolutamente riuscita, abbiamo passato un primo maggio in allegria, in libertà, abbiamo avuto la visita delle Forze dell'Ordine che si sono complimentate per il modo in cui il mercato funziona in sicurezza. La cagliata, la ricotta fresca, uquararune, le antiche tradizioni, i sapori per assolutamente le delizie del palato. Da settembre adotta una gallina per tutti i residenti del comprensorio, la possibilità attraverso questa iniziativa che sta consentendo di scovare le uova dal vivo, in diretta, la possibilità di venire qui all'Istituto Zootecnico, portare l'umido, anziché lasciarlo in un territorio dove purtroppo l'amministrazione comunale non si è mai preoccupata di fare la raccolta differenziata, lasciando l'umido riceverete in cambio dalla nostra amica a due zampe l'uovo. In questo modo aiuteremo la città a rimanere pulita, contiamo di poter contribuire a non inquinare quest'aria della città, e contribuiremo contestualmente a portare a tavola prodotti genuini e di grande qualità.